Quali navi abbiamo all'interno del nostro portafoglio in qualità di NFT tattici per il gioco Star Atlas? Quali sono quelle che a nostro modo di vedere dovrebbero essere le navi, le spaceship da comprare? E soprattutto anche la strategia di gestione dei rewards una volta che le navi vengono messe a reddito, ossia vengono messe sotto forma di stagging. Andiamo per gradi perché ovviamente noi abbiamo già effettuato alcune modifiche a quella che era la nostra originaria allocazione in navi di Star Atlas. Come potete vedere in questo momento ne deteniamo esclusivamente tre, la Ogrica Frippid, la Calico Compact Hero e la Finbull Echoes Grenader. Ebbene, messe assieme tutte queste tre navi hanno assorbito circa 18.000 dollari di controvalore, sono state acquistate in momenti temporali diversi. La prima è stata la Calico, poi successivamente la Ogrica e all'inizio di questa settimana la Finbull. Le abbiamo acquistate generalmente in momenti di mercato di debolezza in cui si è notato un adeguamento del prezzo all'interno del marketplace di Star Atlas in relazione a quelle che erano ovviamente le dinamiche di mercato non solo di Bitcoin ma della stessa Star Atlas. In prima battuta, fino a due settimane fa ne avevamo cinque di navi, in particolar modo facevano parte della, chiamiamola così, flotta di U-Chain. C'era la Calico Evac, poi seguita dalla Pierce F4, le vediamo assieme, dunque la Pierce F4 che era stata inserita come seconda nave all'interno della flotta. Poi siamo andati ad aggiungere la Calico Evac e a seguito del lancio la Pierce X6 che sono state proprio liquidate all'inizio di questa settimana tutte e tre in sostituzione della Green Aider. In buona sostanza che cosa si è fatto? Sono state smobilizzate queste tre con la liquidità ottenuta, si è effettuato un'ulteriore aggiunta, mi pare circa 2000 dollari e si è andati a mettere in portafoglio la Green Aider. Per quali motivo abbiamo fatto queste operazioni e quali sono le nostre aspettative adesso con queste tre navi? che come potete vedere grossomodo generano un reward che va tra i 950 e i 1000 dollari e magari 1000 Atlas al giorno. Partiamo con questa considerazione, le navi bisogna starci dietro, non è che una volta che le metti staking le abbandoni e vanno per la loro strada, assolutamente no, bisogna continuamente, guardate queste sono operazioni di ricarica che sono state effettuate neanche due giorni fa e come potete notare il FUEL sono già scesi al 76-67% e così via discorrendo. La OGRICA in questo momento in termini di potenziale di munizioni di ricarica è il 43%. Quindi sono operazioni di resupply che devono essere effettuate generalmente una volta a settimana, ho visto con questa composizione che abbiamo. Se voi avete invece come era prima la Pierce X6, la Pierce F4, la Calico EVAC dovevate andare a fare operazioni di ricarica, di rifornimento anche per la X6 tre volte a settimana a fronte poi di ricompense di rewards che erano veramente molto modeste. Quindi c'è un cosiddetto tempo di gestione da dedicare allo staking. Con questo tipo di allocazione abbiamo visto che grosso modo abbiamo un reward che si avvicina ai 1000 dollar, ai 1000 Atlas e possiamo effettuarlo una volta a settimana, quindi un tempo che tutto sommato è abbastanza ragionevole in termini di attenzione all'NFT perché queste navi sono sempre NFT per chi non l'avesse ancora compreso. Noi abbiamo scelto come fazione quella degli Ustur e stiamo adesso valutando di unirci a una gilda cosiddetta trasversale tipo quella Staratas Italia con cui abbiamo anche già dialogato proprio durante questa settimana o una gilda esclusivamente per appartenenti alla fazione degli Ustur. Di questo ne parleremo poi più avanti con l'inizio del nuovo anno. Ebbene, alla domanda che tanti ci fanno, vale a dire perché avete scelto queste navi e quali navi consigliate? Il mio personale e professionale valutazione è quella di puntare a navi che abbiano una availability cioè un numero di pezzi disponibili inferiore a 1000. Se la Calico mi pare che sono 1200, la Ogrica sono 700 e la Finbull sono altrettanti 700. Per quale motivo? Perché poi quando verrà implementato il gioco a livello complessivo ci saranno dei fenomeni di rivalutazione degli asset, degli NFT che sono riconducibili proprio a che cosa? A il potenziale di gioco che ha ognuno di questi NFT. Se voi andate a prendere una nave che costa 20-30 dollari oltre a tutta la fatica, non dico la fatica, ma il tempo che bisogna dedicarli per mettere gli staking e tutto questo non ha molto, a nostro modo di vedere, significato. Oltretutto il potenziale di rivalutazione è rapportato per l'algoritmo che hanno proprio il numero di pezzi disponibili complessivamente totali. Poi, attenzione, è meglio acquistare una nave da 1000 dollari o 20 navi, scusate, 50 navi da 20 dollari come mi è capitato di rispondere a qualcuno di voi che mi ha scritto in privato. Ebbene, se voi avete una nave da 1000 dollari, quella nave da 1000 dollari forse la ricaricate due volte a settimana a seconda del modello. Ma se avete 50 navi da 20 dollari, e caspita, dovete fare 50 operazioni di ricarica due volte a settimana, avete una dispersione di tempo che è veramente molto notevole. Senza dimenticare poi il fatto che quando andate a smobilizzare, quando andate, il potenziale di rivalutazione che hanno quelle 50 navi, o più che navi sarebbero spacebikes in questo caso, è notevolmente inferiore rispetto ad una di grande, media dimensione o nel nostro caso legendary. Attenzione, io ho notato oltretutto che più grande è la nave, più è resiliente in termini di prezzo all'andamento del mercato. Quindi che cosa significa? Che in particolar modo sulla Ogrica e sulla Fimbul già siamo abbondantemente in posizione di equity positiva. Fate il calcolo che sono i 18.000 dollari sono diventati già circa 25.000 dollari neanche tra settimane. Ebbene, l'aspettativa che abbiamo in termini di recovery dell'investimento è si aggira attorno ai 6 mesi. Cosa vuol dire? Che se prendiamo i rewards che si ottengono dalla messa ai staking, che però lo staking, attenzione, deve essere seguito con, attenzione perché se avete una nave che va con FUE 0%, non ottiene più grandi di ricompense e quindi si ferma il conteggio dei rewards. Pertanto dovete schedulare un'attività di mantenimento delle navi a livello di, per adesso, gioco SCORE che in realtà è un acronimo che sta per Shipping Commission on Remote Exploration. Quindi commissioni che ti aspettano di gioco per mettere in staking le navi che vanno a esplorare la galassia spaziale. Ebbene, con i rewards che vengono conteggiati in questo momento, noi abbiamo una stima di avere un recovery dell'investimento totale in 6 mesi, ovviamente mantenendo, basta fare il calcolo, ci sono 1000 1000 Atlas al giorno, grossomodo sono 100 dollari ai prezzi attuali, 100 dollari su un mese sono 3000 dollari, su 6 mesi sono 18000 dollari. Chiaro che se Atlas mi raddoppia o si riporta già i valori di qualche settimana fa, tutto ha una tempistica molto più contenuta. E qui viene l'aspetto più importante, cosa facciamo con i rewards? Perché i rewards anche in questo caso qui andiamo a ritirarli una volta, settimana l'ho già fatto, parentesi prima che mi dimentico, vedete che c'è la Ogrica e l'Accalico che hanno come un badge qui con scritto Seasoned Fleet. Io l'ho scoperto proprio smanettandoci sopra questa settimana vendendo, swappando le tre navi di cui abbiamo fatto menzione prima per comprare la Finbull. Voi quindi riceverete questo badge, vi verrà assegnato questo badge una volta che avete fatto almeno 7 giorni, tra virgolette, di missione spaziale. Poi, per andare a vendere una nave, le operazioni le abbiamo fatte anche proprio per testare la piattaforma, l'integrità chiamiamola così spaziale della nave deve essere al 100%, quindi l'elf deve essere al 100% altrimenti non potete portarla, vedete qua, nell'inventario e dall'inventario puoi spostarla sul marketplace e dal marketplace la vendete al prezzo che c'è in quel momento. Quindi questo mi sono reso conto proprio perché non riuscivo a spostare le tre navi di cui prima perché avevano un elf che andava dal 90% al 60%, quindi ho dovuto andare nell'inventario, scusate prima nel marketplace, acquistare i toolkit per ripristinare la funzionalità al 100%. Una volta fatto questo poi potete spostare la nave sul marketplace e venderla, incassare nel nostro caso USDC e con USDC poi eventualmente andare a effettuare altre operazioni di acquisto. Consiglio di acquistare le navi in USDC, non in Atlas perché vi renderete conto voi, vi renderete conto che ci sono spesso dei slippage sfavorevoli. Se usate USDC è anche molto più facile poi tenere la contabilità dell'investimento. Ebbene, cosa facciamo dei rewards, dei Atlas una volta a settimana? Perché poi gli Atlas che rappresentano il ritorno dell'investimento, vale a dire quella parte di capitale che servirà per ammortizzare interamente l'investimento che abbiamo fatto sul gioco. E vi dirò di più, stiamo valutando di acquistare probabilmente con l'inizio del nuovo anno, quando ci saranno, se ci fossero dei momenti di mercato un po' turbolenti, un po' difficili, la Pierce C9 che è una nave di esplorazione spaziale con possibilità di trasformazione anche in stazione. Queste qui o la bombarella, una delle due, o la bombarella o la Pierce C9. Qualora si dovesse fare questa operazione andremo a smobilizzare forse l'accalico, scusate, l'accalico Compact Hero che all'inizio l'ho scelta solo per l'estetica del design, è veramente molto attraente. Ecco, queste sono le navi di cui parlavamo prima, cioè una Opal Jet o una Pierce X4 che costano 20-30 dollari. Se ne comprate uno, vabbè, chi se ne frega, è come buttare denaro, come andare al casino a fare una puntata su un numero singolo. Però se avete una logica di approccio strategico al gioco, perché vi volete portare gioco, si fa per dire un ecosistema strategico che avrà una tutta sua economia più avanti, un'economia di gioco, quindi noi in questo momento come società stiamo facendo l'investimento con una logica di o andare più avanti ad affittare le navi, metterle non solo in stake, proprio renting dell'NFT, di certo non mi metterò io a giocare, non avendo alcun tipo di preparazione per farlo, ma in un secondo momento probabilmente anche la rivendita dell'NFT in relazione alla sua rivalutazione. Più grande della nave più il potenziale di rivalutazione rapportato ai pezzi di disponibilità ho visto che sono, ho visto che è elevato. Man mano che scendete e passate, che ne so, sui modelli vedete Small X, Small, già anche i Medium, ad esempio la Calico io l'avevo acquistata sulla base del suo coefficiente di rarità e la specificità di Uncommon Spaceship, però poi mi sono reso conto che ha necessità di essere ricaricata due volte a settimana e troppo tempo, non posso star dietro anche a queste vicissitudini. Mentre come ho detto prima, l'allocazione che siamo riusciti a implementare con le dovute metriche assorbe grosso modo una volta, una volta alla settimana, quindi non più di 15 minuti che sono anche un tempo ragionevole. Ebbene con i rewards li andiamo a effettuare il claim una volta a settimana, quindi grosso modo sono tra i 6.000 e 7.000 Atlas, circa 600-700 dollari i valori di prezzo attuali, andiamo a fare questa operazione. La metà vanno, chiamiamola così, nella treasury della società, quindi nel wallet di Uchain che vanno ad incrementare la dotazione complessiva degli Atlas perché anche quelli dovrebbero avere poi una sua logica di rivalutazione nel tempo man mano che il gioco sarà adottato, sempre più conosciuto e ci saranno sempre più investitori che vorranno apportare capitali. L'altra metà degli Atlas la scomponiamo in due parti. Il primo quarto viene utilizzato per gestire che cosa? Tutti i processi di ricarica perché ad esempio andare a rimettere in forza la ogrica, cioè non è che è un'operazione che costa decine di dollari, a seconda adesso del momento in cui andate a fare la ricarica che può costare anche 30-40 dollari, ovviamente quella ricarica di 30-40 dollari poi dura per due settimane, ad esempio, cosa che non vale per il fuel o il food, ogni nave ha la sua metrica di consumo in tal senso. Quindi un quarto vengono accantonati come se fossero un current account, c'è un conto corrente dal quale poi andiamo ad attingere gli stessi Atlas per fare le ricariche e per consentire il looping dello staking, altrimenti si ferma e non ottenete più i rewards. Il quarto quarto, quindi lo ripeto ancora, mille Atlas ogni settimana, metà vanno nella treasury della società degli Atlas, un quarto vengono posti in un current account che serve appunto per gestire, in modo tale che voi alimentate lo staking della funzionalità della nave tramite il flusso di income che scattorisce dall'attività, dalla messa in staking dell'NFT. Infine il quarto quarto, cioè quei 250 Atlas al settimana vengono allocati in un pool, in un liquidity pool di Atlas contro USDC che viene incrementato appunto settimana per settimana perché innanzitutto se Atlas avrà questa ipotesi di salita lenta nel tempo di rivalutazione anche il pool ne beneficerà e ovviamente le rewards per aver messo a disposizione la liquidità e il capitale all'interno di questa liquidity pool che come potete vedere ha un APR del 70%, quindi non dico che è un APR particolarmente aggressivo rispetto a quelli che si vedono in taluni altri casi, però tutto sommato avendo come controparte una stable coin nel suo complesso può dare soddisfazione ed è quello a cui noi facciamo, abbiamo conforto. Vi lascio in descrizione quelli che sono le aspettative di gioco per i primi sei mesi dell'anno all'interno di Staratas, quelle che potrebbero essere secondo altri analisti, giocatori, professionisti, le navi che più si smarcheranno, al nostro modo di vedere lo ripetiamo, concentrarsi su quelle che hanno queste caratteristiche da una parte di gioco ma soprattutto poi di disponibilità complessiva di pezzi, i modelli che hanno da mille pezzi in giù proprio perché il potenziale di valutazione sarà particolarmente elevato e in aggiunta anche quelle che saranno poi le dinamiche di sviluppo del gioco con cui noi regolarmente andremo ad approcciare l'economia complessiva proprio per comprendere quando è da smobilizzare ad esempio una nave rispetto ad un'altra. Con l'occasione i migliori auguri di super performance a tutti con l'inizio del nuovo anno. Ciao a tutti!